Montalcino, poesia da guardare, una mostra di due montalcinesi che ormai non abitano più Montalcino ma che a questo paese restano legati e lo dimostrano attraverso le proprie opere in pittura. Claudio Bindi, come nasce l'idea di questa mostra e quali sono le emozioni e le sensazioni a ritrarre, a raccontare il luogo dove si è nati e vissuti. La mostra nasce un po' per caso, ci siamo trovati l'estate scorsa con Letizia in occasione di uno spettacolo musicale ci siamo scambiati qualche idea per quanto riguarda la nostra passione per la pittura una passione che abbiamo ripreso dopo anni di inattività e ci è venuto in mente di creare qualche cosa, di fare una mostra a Montalcino lì per lì non sapevamo che cosa rappresentare poi piano piano scambiandoci le idee, oltre alla passione per la pittura ci è ritornata in mente anche la passione per il nostro territorio per la gente del territorio, per i monumenti, per i paesaggi eccetera e allora abbiamo pensato di fare questa mostra che in sostanza, in sintesi, è un po' un incrocio fra due passioni la passione per la pittura e la passione per il nostro territorio abbiamo cercato attraverso dei lavori che rappresentano più che altro dei piccoli flash della vita montalcinese di ricordare un po' il passato ma di guardare anche un po' al futuro io ad esempio ho fatto anche qualche lavoro attinente a quella che è l'economia principale del nostro territorio che è il vino, quindi troverete, quando verrete a trovarci, qualche cosa in riferimento a questo prodotto è chiaro che si assommano alla voglia di dipingere anche i ricordi del paese i ricordi di quando venivamo qua d'estate, perché noi abitiamo fuori Montalcino io per la verità non ho mai abitato a Montalcino, però è sempre stato il mio punto di riferimento io tutte le estate le passavo a Montalcino, i miei genitori sono di qua, mia moglie è di qua mia figlia è nata a Montalcino, per cui io sono legato a filo doppio a questo paese e la mostra racchiude un po' un insieme di sentimenti e parlo con emozione quando io devo parlare di Montalcino quindi speriamo che sia di vostro gradimento e niente, vi aspettiamo anche per vederci per fare due chiacchiere Letizia Machetti, mi hai raccontato che Montalcino è il luogo dell'anima cosa significa e cosa significa portare attraverso la propria arte, la propria passione quello che il territorio trasmette Sì, dunque il luogo dell'anima perché è il luogo dove rimangono tutte le prime volte che hai vissuto il luogo dell'anima perché ogni angolo, ogni pietra ci ritrovi i tuoi passi ci ritrovi le persone che ami e che hai amato e che magari forse non ci sono neanche più alcune però ti riporta sempre a un sentimento forte che sono quelli dei primi anni della vita io qui sono stata molto felice come bambina, come adolescente e ogni volta ci torno rivivo una sensazione simile quindi è il luogo dell'anima perché se mi succede qualcosa di bello o qualcosa di brutto ma qualcosa comunque di importante e significativo è sempre a Montalcino che penso e a cui faccio riferimento e questo mi è successo anche nei viaggi che ho fatto quando sono stata all'estero, quando ho lavorato all'estero, quando sono stata all'estero mi accorgevo che le certe cose mi riportavano sempre a casa e a casa per me è sempre Montalcino quindi è il luogo dell'anima, dovunque sono io rimango a Montalcino c'è sempre una parte di me che resta qui e che è sempre stata qui io colgo l'occasione per fare dei ringraziamenti il ringraziamento al comune di Montalcino e soprattutto alla persona di Cristina Paccanini che si è dedicata alla nostra causa con molto interesse e con molta dedizione e poi alle persone che mi hanno sostenuto a Maddalena, a Pino Sanfilippo, a Viola che è qui presente perché sono amici di vecchissima data che hanno contribuito alla creazione e alla divulgazione della notizia di questa mostra con grande generosità e con un senso di familiarità assolutamente prezioso grazie